Questo è un orso delle caverne dell'era glaciale. I resti sono stati scoperti in una delle isole di Lyakovsky nella regione siberiana della Russia. La carcassa dell'orso, perfettamente conservata, rivela denti e naso intatti. Un'analisi preliminare ha indicato che l'orso ritrovato, un esemplare adulto, è vissuto da 22.000 a 39.500 anni fa. Un ricercatore del Museo Zoologico di Mosca. Per noi si tratta di una scoperta sensazionale. Finora eravamo riusciti a scoprire solo le ossa degli orsi delle caverne, che si sono estinti 15.000 anni fa. È davvero un grande passo in avanti. Oltre a questo orso delle caverne, negli ultimi anni nella regione siberiana ci sono state importanti scoperte di mammut, rinoceronti lanuginosi, puledri dell'era glaciale e altri animali preistorici. Tutti ritrovamenti dovuti allo scioglimento del terreno ghiacciato.